Continua il periodo no dell'Angelana che alla Migaghelli nell'anticipo della 28esima giornata del campionato di eccellenza viene superata dall'Ellera per tre reti a zero. A diretto la gara il signor Aloy di Gubbio affiancato dai signori Mariani Romoli di Perugia. Un giro di lancette ed Angelana in avanti con De Santisi la cui conclusione è parata facilmente da Battistelli. Al dieciassettesimo Angelana vicino al vantaggio angolo di vent'anni con palla che scende sui piedi di sub vicini che al volo manda alto. Sulla fronte opposto al dieciannovessimo punizione di Veneroso il colpo di testa di Marconi con Buini che mette in angolo. Dalla bandierina ancora Veneroso palla nel mucchio con un'azione fotocopia poi l'itori di testa mette dentro Angelana a zero Ellera a uno. Si aspetta la reazione giallorosa ed invece ancora l'Ellera al quarantesimo con una punizione di Lavano ad invenzere a Buini che para a terra. Alla quarantatresimo l'Ellera raddoppia angolo calciato sempre da Veneroso. Palla in mezzo lo stacca aereo di Ubalti e Vincente che supera a Buini. Angelana in avanti e dopo due giri di lancette c'è un contatto in aria su vicini cade a terra chiedendo il calcio di rigore ma il signor Aloi facendo di proseguire sul capovolgimento di fronte ottimo intervento di Buini che di pietre salva su brevi e sul parziale di 2 a 0 per l'Ellera si va al riposo. Grazie alla contributo dell'immagine filmate da Massimiliano Vignaroli passiamo alla sintesi della seconda frazione che si apre con una sostituzione nelle file giallorosse. Esce il più bravo Buini e al suo posto l'affidabilissimo Cucchiararo. Nulla di cambiato in casa a Ellera, Angelana che prova a riaprire la gara, al quinto con Acatullo che da ottima posizione spara alto. Al sedicesimo Ellera che prova a chiudere definitivamente la gara con Polidori che avanza e fa tutto bene meno che la conclusione che si perde sul fondo. Al ventiquattresimo il terzo gol dell'Ellera, c'è un cross di Veneroso dalla sinistra Cucchiararo che in uscita va in collisione con Polidori, il portiere rimane a terra e la sfera che entra in rete. Gol convalidato e dopo un paio di minuti Cucchiararo è costretto ad abbandonare il campo dolorante e viene schierato in porta Jessyman. È tutto dalla Migaghelli. Ribadisco il risultato finale. Angelana 0, Ellera 3. Grazie per l'attenzione. Sandro Dell'Aveto, Lino Studio. Il signor Leonardo Santarelli è il presidente dell'Angelana dopo il bel punto conquistato con la prima della Rasse ad Orvieto. Poi siete usciti dalla Coppa, poi è entrato il periodo nero, ma siete pronti a rialzarvi penso? Difficile anche commentare una partita del genere. Insomma, primo tempo abbastanza equilibrato, abbiamo preso due gol su due calci piazzati che sicuramente si potevano evitare. 3-0 sinceramente mi sento un attimo di difendere il nostro partire. Penso che è stato evidente tutto. Cioè è andato anche in ospedale. Tante volte non so come riescono gli arbitri a vedere certe cose anche se la partita era già finita prima. E sì, dopo Orvieto veramente un po' l'impegno di Coppa, un po' altre problematiche. La squadra ha avuto un'involuzione importante. Adesso non so neanche che cosa dire perché comunque è pesante. Perché comunque in settimana ci sono state anche le dimissioni del mister, fermamente rispinte dalla società perché ancora la società crede nel gruppo, crede nel mister. Non lo so, adesso mancano sei partite. Ormai pensiamo partita per partita e poi vedremo un attimo quello che succede. È un momento difficile. Potevamo sbloccarla su un calcio d'angolo noi e invece dopo l'hanno sbloccata quando andiamo sotto con una squadra come l'Ellera poi è difficile reagire anche perché il momento non è dei migliori. Ma quello sicuramente. Io mollare, sai, a volte vanno dati anche degli input che possono essere anche sbagliati. Sicuramente. Però bisogna sempre provarle tutte. E noi le proveremo tutte fino a un fondo. Questo sicuramente. Io non sono riuscito a trasformare niente. Sono loro che hanno trovato una quadratura. Ma ce l'avevano anche prima la quadratura. Il problema è che c'erano molti infortunati e la cosa non poteva prendere piega. È normale perché senza i giocatori che stanno bene uno non è che può fare niente. Adesso tutto sommato stiamo abbastanza bene anche a infortunati anche se ultimamente Pettinelli si è fatto male e ci dispiace tanto. Questa è una squadra che può vincere con tutti e perdere con tutti. Perché non è che non siamo invincibili. Perché stanno facendo bene. Stiamo facendo bene. Andiamo avanti. Quello che è successo oggi ormai è già tutto quanto chiuso. Già pensiamo a mercoledì e andiamo avanti. Tanto il calcio è presente. Quello che è stato è storia.